Ciao a tutti amici, come state? Spero che stiate vivendo una vita meravigliosamente felice ed oggi iniziamo con una nuova lezione di italiano. Molto bene, direttamente all'azione. Ciao, come stai? Ciao, come stai? Come puoi notare hai differenti sintonazioni, questo può dipendere del tuo stato animico o anche a volte, senzillamente, dell'enfasi che vuoi dare, no? A tua emozione, a tuoi pensamenti. Puoi dirlo di forma neutra, sì. Ciao, come stai? Ciao, come stai? Puoi notare le differenze. Sto molto bene, grazie. E tu? Sto molto bene, grazie. E tu? Hasta ora hemos dicho, hola, come stas? Estoy muy bien, grazie. E tu? In realtà oggi non mi sento molto bene. In realtà oggi, oggi, non mi sento molto bene. In realtà oggi non mi sento molto bene. In realtà oggi non mi sento molto bene. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Adesso, mucho cuidado con las doble consonantes, adesso hai che redondarla fuerte, ok? Adesso andiamo a fare una passeggiata al sole e vedrai come ti sentirai meglio, ok? Meio. 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 Hai che deixar un po' di aire, pasarla, entre il paladar e la lingua, perché di questa forma va a salire più naturale. Meio. Yi. Yi. Se aprieta demasiado, allora obtendrai il fonema di gi. E questo non lo queremos in questo caso, ok? Quindi, passeggi, passeggiata, passeggiata, certamente tienes che aprieta molto bene, con il paladar la lingua, per che in realtà se produzca questo sonore un po' guttural, ma quando si tratta di meio, o Yi, meio, passare, di questa forma ti sale più naturale. Otra cosa super importante, tienes che aprendere a utilizzare la tua bocca. Tienes che aprendere a entendere che questo è un instrumento fonetico, e se articula bene la bocca, movendo i labi, usando bene la lingua, vas a tener soni più redondi. Io non parlo così tutto peggato, no? E io, anche quando parlo altri idiomi, intento sempre articular, perché questo fa che sia più facile poter utilizzare il fonema corrispondente. Non ti preoccupi, che ora di volta l'italiano. Non preoccuparti. Adesso andiamo a fare una passeggiata al sole e vedrai come ti sentirai meglio. Puoi ponerle anche l'entusiasmo che tu chieras. Grazie, sei molto gentile con me. Grazie, sei molto gentile con me. I veri amici servono proprio a questo. I veri amici servono proprio a questo. E ora voy a leerlo di nuovo, perché anche noi faremo non solo una lettura fonetica, interpretativa dopo, e poi per che realmente entiendasci il significato. Ok? Quindi, una breve traduzione di questa ultima parte. Non ti preoccupi, ora faremo un passeo al sole e vedrai come ti sentirai meglio. Grazie, sei molto gentile con me. Los verdaderos amigos sirven justamente a esto, o proprio a esto, perché sono sinonimos, però in este caso justamente es más apropiado. Ok? Recuerda che ha differenzia sempre traduzione literaria e traduzione ovviamente un poco metaforica. Lo leo nuovamente, ok? Ciao, come stai? Sto molto bene, grazie. E tu? In realtà oggi non mi sento molto bene. Non preoccuparti. Adesso andiamo a fare una passeggiata al sole e vedrai come ti sentirai meglio. Grazie, sei molto gentile con me. I veri amici servono proprio a questo. Io sono a buonità nota per concludere questa sesione. Quiero ovviamente ricordarti che puoi suscribirsi a mio canale di YouTube. Tamb' ovviamente darle like se ti ha piaciuto il video e compartirlo. E ricordate che la campanita è questa per che puoi avere notificazioni. Tamb' mi encuentro in Facebook, Instagram, YouTube, Twitter con Marco Nisida. Muy facile. E anche ricordate, puoi suscribirsi a marconisida.com con il tuo correo electrone per ricevere ogni giorno una nuova lezione, una videolezione. e certamente saber muchas delle cose che faccio perché in molti corsi hai corsi di conversazione pratica, hai corsi individuali uno a uno conmigo e molte altre cose. Ok, così che, senza più, te lo leo una ultima volta, è redundante, lo so, però realmente hai certi gruppi fonetiche che per gli altri che vogliono possono seguire ascoltare. E se non, anche tu puoi passare al prossimo video. Però lo faccio una ultima volta subrayando le cose più importanti. Ciao. Ciao se lee della misima forma conversazione e ciao passare, passare, ben forte, passare, passare al sole. E, bueno, io credo che lo abbiamo tutto, ovviamente, meglio, meglio, lo dite antes. E, altra cosa, vedrai, è un futuro, verà, per Internet, vedrai, � e un po' vivenaire, ci vediamo in marconice.com e z cases pentru, ci vediamo in acquatonhLE, grazie per essere con lui. Un forte abrazzo. Ciao, ciao.